Lei è il distruttore, è un destino minaccioso che dà la vita alla rinascita. Lei è la terra fertile, è la prosperità, è il tramite, è la calamita, è un'anima forte, pura. Vedi intorno a te? Non lo vedi, uomo? Il vecchio mondo è morto e la civiltà è caduta il giorno in cui lei è venuta al mondo. Il giorno in cui la natura ha smesso di stare a guardare. Il giorno in cui il cielo ti ha parlato. Solo che quel giorno hai capito male. Il cielo ti suggeriva di farla finita e come? Così non avresti mai dovuto avere a che fare con lei.